Ma buonasera a tutti, ben ritrovati, come state? Buonasera, adesso io farò un gioco di prestigio, sì sì, ma che capelli, ma che capelli, mettiamoceli a posto. Gioco di magia, sì, io farò scomparire questo cioccolatino, questo cioccolatino scomparirà. Mi tolgo gli occhiali, mi tolgo anche gli occhiali, così questo scomparirà, scomparirà. Signori, al mio 3 il cioccolatino scomparirà. Guardate, scarto il cioccolatino, è cioccolatino eh. al mio 3, al mio 3, al mio 3, chiudo la porta e vedrete, fantastico, gioco di prestigio. Allora, ci siamo eh, 1, 2, 3. Spesso, gioco di prestigio, gioco di prestigio. Ciao, 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 giustissimo come il cioccolatino, ciao.